Ciao a tutti ragazzi, oggi vi faccio vedere il mio album Adrenaline e ricordatevi che potete scambiare le carte con me iniziamo nella prima squadra, l'Atalanta ah, poi vi volevo dire che sono uscite le plus il Cagliari il Chievo Verona, quasi finito l'Empoli, nuova squadra la Fiorentina, finita Frosinone, una delle nuove che sarebbe stato molto forte il Genoa l'Inter ma ne manca soltanto una ho il top dell'Inter a Juventus c'è la 7 di Bala poi la Lazio il Milan la squadra, una delle più forti con quest'anno il Pipita poi il Napoli il Parma molto forte che quest'anno ha vinto 2 a 0 contro l'Inter se non sbaglio poi c'è la Roma poi la Samp il Sassuolo il Sassuolo finito la squadra ma ne manca soltanto una poi passiamo al Torino che non trovo mai gli Anni poi l'Udinese poi l'Udinese e passiamo alle Carse Speciali iniziamo dagli Idoli poi i Muri d'Acciaio le Pozzi e i Guanti d'Oro i Super Draft finiti tutti gli Iron Man soltanto avere tu i Super Eroi finiti mi manca poi una Stella e poi mi mancano i Top Player poi passiamo agli allenatori questo è Speciale Brilla se non vedete l'effetto poi c'è la squadra poi c'è le Speciali poi e poi passiamo alle Limited Edition ok spero che questo video vi sia piaciuto e mettete un super like vuole arrivare più di 200 like l' rudimenti ma prima qui sai attra gr